Ciao a tutti, ciao ragazzi, poche ore all'inizio di Juventus e Las Veronas, ero allo stadio, infatti tra poco partirò direzione Torino, vedrò questa partita, ve la documenterò col post-gara, con il classico video delle live reactions, quindi mi raccomando. Ma ragazzi, la cosa più importante qual è? Intanto alcune anticipazioni importanti, partiamo già da un aspetto legato alla questione coreografia, ci sarà una coreografia, nella tribuna est c'è una scritta uniti, quindi curioso di vedere che cosa uscirà, io mi raccomando ai tizi che stanno in tribuna est, è importante documentare la vostra esperienza allo stadio, ma per quei dieci minuti quel cavolo di cartoncino lo potete tenere alzato, oltretutto c'è la possibilità sia di tenere il cartoncino che di utilizzare il telefono, avete due mani, grazie a Dio, mi raccomando, rendete onore a questa coreografia, vista e considerata la situazione. Il grande messaggio della Juve è che oltre che battagliare nel campo da calcio, battaglia anche nell'extracampo e lo sappiamo bene, ve l'ho detto anche nel video di stamattina dove la Juventus sta battagliando, quindi questa è la novità, la coreografia. Io ve l'ho detto, se vogliamo incontrarci ragazzi prima della partita vi aspetto, due ore prima circa, della gara nell'ingresso B dove entrano i mass media, i giornalisti eccetera. Quello è l'ingresso dove in genere io vado a parcheggiare, dove eventualmente ci vediamo. Perché? Perché insomma, poi entrerò prima, anche perché arriva un certo signore che alla Juve ha fatto la storia, Alex Del Piero, e quindi cercherò di entrare in anticipo con l'intento anche di beccarlo. Non chiedo un selfie, ma almeno documentarvi un suo passaggio, voglio vederlo coi miei occhi, quindi andrò da presto anche per questo. Aspetto importante ragazzi, devo ringraziare Alfredo perché mi ha inviato questi biglietti per l'ennesima volta. Alfredo, io ti ringrazio di cuore, lui ha i biglietti, ma ragazzi no, hai abbonamenti, non è obbligato a invitare me, però lo fa con piacere e io mi sono grato, veramente. Andrò con mia moglie a goderci questo spettacolo, andremo al club Boniperti eccetera. A proposito, anche acquistate i biglietti per Juve Napoli in Curva Nord e per Juventus Sporting. Quindi saranno tante le occasioni per poterci vedere anche dal vivo ragazzi, se venite nello stadio. Detto ciò, detto ciò, torniamo a noi e parliamo di che cosa? Parliamo della formazione anche tipo che potrebbe esserci oggi in occasione di questa partita. Importa ovviamente, non ci sono dubbi, ci sarà il buon Texcesni, da cui mi aspetto anche una buona prestazione anche da parte sua, perché tanti non so perché non lo vedono come un buon portiere. Per me a livello di rendimento è tra i migliori d'Europa in questa stagione, in termini di parata, in termini di numeri. E' questo, vi dico. Dietro, conferma per Federico Gatti, vista anche l'assenza di Alexandro. Gatti che però ha fatto due grandi partite. Io lo voglio vedere in questo banco di prova qua. Lellas è una squadra che non sta brillando particolarmente, è una squadra non troppo forte. Però, voglio vedere come impatta questo ragazzo quando la tensione, secondo me, agonistica è leggermente inferiore. E' leggermente un pelo più bassa. Quindi lo voglio vedere alla prova in questa situazione. E dovrà dare delle conferme anche lui. E la cosa che riconosco è la grande umiltà nel dire sono alla Juve, ho fatto due grandi prestazioni, ma oggi non ho fatto nulla. Grande Federico, questa è la mentalità giusta. Poi ovviamente ci sarà anche al suo fianco Gleison, Bremer, i due Brasileiro, con Danilo anche accanto. La difesa a tre sarà composta da questi elementi. Poi ci sarà, come esterno destro, il buon Mattia Desciglio. Che potrebbe anche portare da Juventus in certe situazioni, magari a giocare anche a quattro. Vediamo, non lo so. Spostando Danilo a terzino sinistro e mettendo Gatti e Bremer centrali. Dipende un po' da come va la partita. Centrocampo, qua c'è la vera novità dell'ultima ora. Perché doveva giocare emiletti, ma giocheranno innanzitutto. Niccolò Fagioli conferma meritata, non c'è bisogno neanche dire nulla. Cioè ha fatto delle giocate con l'Inter incredibili, con l'Andre 21 per poco non fa venire giù lo stadion con un gol da Cineteca, con una punizione paurosa che becca in pieno l'incrocio dei pali. Quindi Niccolò fondamentale. E guardatelo oggi ragazzi, in che cose è migliorato. Nel fondamentale che vi ho detto anche su Instagram, se non mi seguite seguitemi anche là, la cosa più bella di Niccolò Fagioli è che al di là della tecnica che ha, che non è una cosa che non sapevamo, la tecnica di Niccolò non è una novità. È un giocatore dotato di piedi sopra fini. La sua più grande dote è la postura in campo, il sapersi mettere nel modo giusto al momento giusto. E quindi bruciare dei tempi di gioco in positivo, anticipare di quei due o tre tempi di gioco certe giocate, è andare sempre a giocare sul lato debole, una volta che lui si mette in una posizione tale da eseguire dei passaggi strepitosi. Quindi Fagioli c'è, Locatelli ovviamente confermato. Vista e considerata però l'assenza di Rabiot, credo che in linea mediana potrebbe giocare in realtà Barrenecea. Infatti supera nelle gerarchie Miretti, come ho detto poco fa, e quindi Barrenecea dovrebbe essere il titolare di questa partita. Altra cosa interessante è il ritorno comunque di Milik tra i titolari. Giocherà, non giocherà, chissà. Innanzitutto la conferma per Kustis c'è, giocatore imprescindibile, e appunto giocherà Arkadius Milik in compagnia di Moise Ken. Questo sarà probabilmente il tandem d'attacco. Cosa molto bella, rivedere Milik, perché secondo me far rinfiatare il buon Vlaovic è fondamentale. E ripeto, Vlaovic stesso dalla presenza di Milik in allenamento può giovarne, può caricarsi, può motivarsi, può migliorare. Perché Milik ha delle caratteristiche differenti da Vlaovic. Vlaovic ha tanto da imparare da Milik, ma allo stesso tempo Vlaovic è di livello secondo me un pelo superiore. in termini di prestanza, di qualità. Non di prestazione, quest'anno ancora ha dimostrato molto poco, ha dimostrato più Milik, e Milik c'è. Però Milik deve essere quella roba che, quel tarlo agonistico che consuma la testa di Vlaovic e che gli fa porre delle domande sul come migliorare determinate situazioni. E credo che veramente la presenza di Milik in tal senso aiuti Vlaovic a migliorarsi, a fare autocritica quando deve fare autocritica, ma insomma deve essere una fonte di ispirazione. Oltretutto non li sto mettendo in discussione in termini di due giocatori che stanno nella stessa squadra e sono rivali e non si possono vedere. Mi pare che il rapporto sia ottimo e di grande collaborazione ed è questa contaminazione continua dall'allenamento al rendimento in partita che deve far migliorare e maturare Dusan Vlaovic. Detto ciò ragazzi, adesso io mi preparo per partire alla volta di Torino e l'ultima novità che volevo illustrare invece è la maglia. Ci sono conferme, dovrebbe essere questa maglia qua che non so quanto piaccia a voi o quanto insomma la riteniate insomma una maglia bellissima da acquistare. Subito, devo essere sincero, a me a primo impatto non dice ancora tanto. Vorrei vedere la indossata ai giocatori e l'effetto che mi fa una volta che l'hanno indossata. Ecco, è una maglia sicuramente nuova questa irregolarità un po' tamarra, diciamo così secondo me è molto affine ai gusti giovanili e credo che alla fine l'idea della Juventus sia esattamente questa andare a colpire un'utenza di giovani per questa maglia. Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti iscrivetevi al canale e sempre fino alla fine Forza Juve ragazzi. Ciao belli!